Sei anni vissuti in un incubo, interminabili e scuri. Sei anni vissuti nella solitudine, perché di certe cose è meglio non parlare. Inizialmente quelle cose non sono neppure descrivibili da quanto al di fuori della propria comprensione, ma un giorno qualcuno, l'insegnante, riesce a trascinare fuori dall'incubo la piccola, a non farla più sentire sola, di fronte al papà orco. Da quando aveva sette anni, una bambina è stata la vittima delle attenzioni particolari del proprio papà fino alla fine del 2015. Solamente nel maggio del 2016, a scuola, al termine di una lezione in classe dedicata alla violenza di genere e in particolare agli abusi sessuali compiuti dai genitori nei confronti dei figli, un insegnante ha notato il turbamento della ragazzina. Non è stato facile, ma quando la minore ha cominciato a sentirsi a proprio agio e soprattutto a non sentirsi più sola, ha iniziato a raccontare alla maestra quanto costretta a subire negli anni dal padre, che da tempo si era separato dalla madre. Nei fine settimana, in occasione delle visite al padre nella nuova casa, la ragazzina doveva soddisfare le avanza del genitore, ovviamente durante l'assenza della sua nuova compagna. A racconto sono seguiti gli accertamenti e attivati i servizi di assistenza e tutela nei confronti della minore. Nel frattempo, le indagini dei carabinieri di Marostica, coordinate dalla procura di Vicenza, hanno consentito di raccogliere prove congruenti che hanno portato all'arresto del padre di 37 anni. Il presunto papà orco è ora rinchiuso nel carcere di Vicenza.